Dalla lettera agli ebrei divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Salvami, Signore, per la Tua misericordia. In Te, Signore, mi sono rifugiato. Mai sarò deluso. Difendimi per la Tua giustizia. Tendi a me il Tuo orecchio. Salvami, Signore, per la Tua misericordia. Vieni presto a liberarmi. Sì, per me è una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi salva, perché mia rupe, mia fortezza, Tu sei. Per il Tuo nome, guidami e conducimi. Salvami, Signore, per la Tua misericordia. Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei Tu la mia difesa. Alle Tue mani affido il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele. Salvami, Signore, per la Tua misericordia. Ma io confido in Te, Signore. Dico, Tu sei il mio Dio. I miei giorni sono nelle Tue mani. Liberami dalla mano dei miei nemici e dai miei persecutori. Salvami, Signore, per la Tua misericordia. Quanto è grande la Tua bontà, Signore. La riservi per coloro che Ti temono. La dispensi davanti ai figli dell'uomo, a chi in Te si rifugia. Salvami, Signore, per la Tua misericordia. Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo stavano presso la croce di Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre, Donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo, Ecco tua madre. E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti